Ciao a tutti, Filmora 9 non è più una novità ma un programma rodato. Le domande e le ricerche si accumulano, quindi inizio subito raccontandovi tre cose per gestire al meglio la timeline, lo spazio di lavoro dove organizzare le vostre clip. Ben ritrovati immaginativi. Filmora 9 ha destabilizzato un po' tutti, ma non scoraggiatevi. La maggior parte delle funzioni sono esattamente come prima, solo l'interfaccia è stata rivoluzionata e alcune icone sono state spostate. Ad esempio il rallenti e l'accelerazione sono lì, sopra la timeline e funzionano esattamente nello stesso modo. Un altro esempio è la finestra per la creazione e l'animazione dei titoli. Basta che clicchi sulle impostazioni avanzate e te la ritrovi qua sopra. Funziona esattamente come prima e il tutorial che trovi qua sopra e che ho girato tempo fa resta comunque valido. Quello che è stato completamente rivoluzionato invece è la timeline, che ora ti spiego un pochino come gestirla. La timeline è questo spazio di lavoro dove puoi assemblare, tagliare e rifinire le tue clip. Filmora 8 aveva una timeline assolutamente semplificata, perché ogni traccia aveva un suo ruolo. c'era la traccia per i video, la traccia per le sovrapposizioni, quella per gli effetti e quella per i titoli. Filmora 9 ha una timeline simile a qualsiasi altro programma di video editing in cui mi sia imbattuta. Le tracce come vedi sono tutte uguali, puoi metterci sia immagini, sia foto, sia video, sia titoli e puoi metterne tanti una sopra quell'altra. Credo che il massimo sia 99, comunque sicuramente più di quanto lo schermo del tuo computer può contenere. Il primo grosso cambiamento è quello che la traccia superiore copre quella inferiore. Nella versione precedente era il contrario, ma se ci pensi è abbastanza intuitivo. Nella vita reale accade proprio questo, che quando tu metti un foglio sopra quell'altro è il foglio superiore che tu vedi. Per creare gli effetti di split screen oppure picture in picture dovrai utilizzare le tracce in sovrapposizione. Forse è un pochino più complesso all'inizio, ma sicuramente si aprono un'infinità di possibilità in più. Ora ti racconto un pochino le potenzialità di questo Filmora 9 e andiamo a vedere le impostazioni avanzate di ogni singola clip. Per aprire la finestra puoi fare doppio clic lì, oppure andare a selezionare l'icona delle impostazioni avanzate. A questo punto la finestra con i tuoi documenti effetti si trasforma nella finestra che contiene i parametri per gestire le impostazioni avanzate. Innanzitutto la rotazione. Nella versione precedente potevi ruotare il video sulla prima traccia esclusivamente di 90 gradi ed era un grosso limite che parecchi di voi avevano anche fatto notare nei commenti. Quindi spostando il cursore di qualche grado a destra a sinistra l'immagine si ruota di qualche grado e puoi per esempio allineare la linea dell'orizzonte al mare che è un problema che spesso si crea con le inquadrature girate in spiaggia. Scorrendo verso il basso trovi le altre trasformazioni. Il ribaltamento da destra a sinistra e dall'alto in basso. Più sotto trovi la scala per rimpicciolire o ingrandire la tua immagine e il posizionamento per spostare l'immagine all'interno dello spazio di lavoro. Questi due parametri ci saranno molto utili successivamente quando andremo a ricreare gli effetti picture in picture. Quindi picture in picture diciamogli addio, amen, ormai è così. Ti mostro invece come creare un effetto split screen a titolo esemplificativo perché così con quel metodo puoi creare anche tante altre situazioni. quindi una clip l'hai già sulla tua prima traccia. Per creare la seconda traccia semplicemente prendi la clip dalla finestra là sopra che è rimasta sostanzialmente la stessa. Sono stati soltanto spostati i comandi. Quindi prendi la tua clip e la trascini lì sopra. Ovviamente la clip sotto non si vedrà più perché è interamente coperta da quella sopra. Se volessi creare un'inquadratura sopra la mia immagine principale semplicemente seleziono la clip sopra e vado a impostare i parametri che abbiamo visto prima. Quindi scala per rimpicciolire e il posizionamento. Ma io invece voglio creare un effetto split screen e quindi voglio croppare cioè ritagliare la mia immagine. Seleziono e vado a cliccare sull'icona taglierina. Si apre la finestra che è esattamente uguale a quella che abbiamo visto tante volte nella versione precedente. Posso impostare i parametri personali e io imposto 960x1080 semplicemente perché è la proporzione della metà di un'inquadratura in formato 16 noni. Se voglio creare uno split screen simmetrico con un pochino di precisione è opportuno indicare manualmente i parametri. Scritto lì dentro ritaglio e seleziono solo la parte dell'inquadratura che voglio ottenere. Una volta ritagliata la mia inquadratura semplicemente chiudo la finestra e vado a selezionare le impostazioni avanzate che abbiamo visto prima. Puoi anche muovere manualmente la tua clip all'interno della finestra. Semplicemente selezioni il parametro e poi ritorni nella finestra e sposti tutto da un lato la clip che abbiamo ritagliato. A questo punto torni a vedere anche la metà dell'inquadratura dell'immagine sottostante. È opportuno però fare quello che abbiamo fatto prima e quindi ritagliare e spostare in modo che le tue immagini siano complementari e belle da vedere. Esiste anche un altro modo un po' più sofisticato per ritagliare la tua immagine ed è quello di applicargli una maschera. Per fare ciò seleziona la clip, apri il tab degli effetti, scorri fino a trovare la voce utilità e li trovi le maschere. La prendi e la trascini sulla tua clip. Stai tranquillo non vedi subito l'effetto perché devi andare a modificare alcune impostazioni. Per modificare i parametri delle impostazioni avanzate ricorda sempre doppio clic oppure l'iconcina là sopra. A questo punto la finestra si trasforma come abbiamo visto prima. Ritroviamo le trasformazioni basiche ma se scorri in fondo è apparsa una voce effetti. Apri le impostazioni e li trovi varie maschere tra cui selezionare. Se guardi più sotto trovi anche alcune altre impostazioni da modificare come la posizione, la dimensione, la sfocatura e poi anche invertire la maschera. La cosa veramente veramente bella è che lì puoi caricare la tua maschera personale. Basta creare un file in formato png con una sagoma, crea fatta da un colore compatto e un ritaglio trasparente e in automatico filmora la legge. Un'ultima cosa, se vuoi vedere la tua clip senza effetto togli la spunta e nel visore vedi la clip senza l'effetto applicato e per cancellarlo definitivamente selezioni e cancella. La composizione è una funzione nuovissimissimissima che qualcuno di voi aveva anche chiesto. Come fare? Selezioni la clip superiore, doppio clic, ormai lo sappiamo, impostazioni avanzato, abbassi la trasparenza e a questo punto vedi l'immagine sottostante con una sovrapposizione dell'immagine superiore. Ovviamente è un effetto che non sta bene per tutte le clip. Questo è un effetto di trasparenza lineare ma puoi sperimentare anche diversi effetti che vanno a incidere in modo particolare sul colore. Apri la tendina e ti consiglio di provare l'effetto schermatura e bruciatura. Capire e gestire la timeline è senz'altro il passaggio più complesso nel avvicinarsi a filmora 9. Tieni sempre presente che di tracce ne potrai mettere praticamente quante ne vuoi e che quella superiore copre sempre quella inferiore. Quindi per mostrare quello che vuoi devi tenere presente la posizione ed eventualmente per giocare con la trasparenza doppio clic, impostazioni avanzate e a grandi linee oggi ti ho spiegato quelle che sono i parametri principali. In ogni caso ricordatevi che i programmi di video editing funzionano a grandi linee nello stesso modo. Una volta che voi conoscete le funzioni e i parametri sono sicura che saprete ritrovare l'icona che vi permette di ottenere l'effetto che avete in mente. Quindi con questo tutorial penso che voi sappiate orientarvi anche in altri programmi. E a questo proposito ho scoperto parecchi programmi gratuiti e open source e a questo link che vi rimanda al mio blog potete conoscerli tutti. Siamo arrivati alla fine. In questa lunga pausa ho aggiornato la guida Crea il tuo set TV e ho inserito numerosi altri strumenti utili che ho scoperto in questo ultimo anno. Per ottenerlo puoi iscriverti alla newsletter qua di fianco oppure se sei già iscritto vai nell'ultima mail inviata e trovi il link per scaricarlo. Se hai problemi contattami. In ogni caso iscriversi e leggere la newsletter è il canale privilegiato per rimanere in contatto e per ricevere promozioni e anche regali. Quindi non mi resta che augurarti di mettere in immagini la tua storia e creare la visibilità che meriti.